Stiamo attraversando dei cambiamenti epocali, riguardano in particolare quattro rivoluzioni tecnologiche direi, l'intelligenza artificiale, la blockchain, la rivoluzione quantistica e la biologia sintetica. Si tratta di cambi e di trasformazioni profonde. Qual è la sfida vera che dobbiamo mettere in campo? Io credo che la sfida vera sia quella di riuscire a leggere culturalmente, il che vuol dire anche strategicamente, in profondità, queste rivoluzioni, che non sono semplicemente rivoluzioni tecnologiche, ma sono cambi di paradigma all'interno della civiltà umana.